Ok benziatevi eccoci qua ad un nuovo video Oggi siamo qua con una nuova puntata delle compilation delle vostre clip sul mio canale di Twitch Come al solito vi ricordo che queste live le trovate il lunedì, il mercoledì e il venerdì Sempre dalle 21.30 fino alle 11 Quindi vi lascio al video e se avete tempo passate nel mio canale Vi aspetto lì e vi ringrazio Aiuto è un asilo È un asilo Non ci credo Che ritardato Ho finito le frecce comunque Allora Aspetta dove spuntano Cioè non c'era, non c'era, non c'era Ma secondo me in che modo gli sei spunti Ma dimmi, dimmi che ora gli acc... OLA BITCHES Tua madre Come faccio? Ah, kick Schiaffa, dai un calcio Siamo in un montage dei Fades nel 2012 di Cecchini su MW2 Cioè Io non capisco È una presa per il culo Perché devono capitare tutte queste cose? Bisio non si è fatto vedere Bisio non si è fatto... No, 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 dai, no, 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 scusate, no, dai, no, dai, no, dai, no, non è possibile, no, dai Ha avuto paura Non ci credo, l'hanno fatto pure a me finalmente Lo posso dire, lo voglio dire Lo voglio finalmente dire Grazie per il follow T'ho masturbato Qual è il robo che avevo? Intendi la cosa? Quale intendi? Fermi Qua, quarzo, quarzo Quarzo infatti scusami No Eh, non posso, non c'è Non fa niente, due per due Due per due non fa niente Ah, un quattro, eh, quattro Ah, è vero Io avevo detto due È prima di quando ti rilassi nei giochi, nei giochi, nei filmori, quando sei tipo lì Oh, tutta la tensione se ne va via L'adrenalina, ecco, esatto Ah Eh, le ho attivate le manine vicino Signora Vabbè Come provarci con le signore ansie Dove essere passate Eccoli Baffan Via Ciccidella Via Tanto punto parato Troia Mamma mia Che skill Ma lo vedi che non l'ha beccato Cioè, era so Vabbè Proviamo a uscire da Ho trovato altro quarzo Sono felicissimo A tutti penso metta ansia Al cosa del ghast Assolutamente Eh 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 Ti faffanculo Ma non è possibile Poteva essere ovunque Poteva essere ovunque la lava Ma tranne che lì Non è possibile Ah sì cazzo Non mi hackeravano più Ci ho perso le speranze Senza capelli ma cazzo duro Oh Gesù Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Cristo Gesù Gesù Cristo Gesù Gesù Cristo Gesù Cristo Io non so se siamo morti Io non so se siamo morti Ragazzi non so se siamo morti Ragazzi non so se siamo morti Non so se siamo morti Mi sono passato accanto Gesù Cristo Requina è una frecciatina Requina è una frecciatina questa Guarda che ti Requina non Requina Vabbè Ti sei fatto un nemico stasera Ti sei fatto un nemico stasera Requina Complimenti Ok Andiamo Vabbè c'è la manovrabilità di un pinguino morto Andiamo andiamo Ci siamo Ho un palo Ragazzi il pacco c'è Il pacco c'è Tranquilli Abbiamo preso un pa Era tutto Era tutto previsto Per il palo Che schifo Stronzo Stronzo Testa di cazzo Vittoria Non me ne frega un cazzo Che sono morto Non me ne frega un cazzo Mi ha rotto tutte le Mi ha rotto tutta l'armor Mi ha rotta tutta l'armor Mi ha rotto tutta l'armor Ma non me ne frega un cazzo Non Me ne frega Un cazzo Dobbiamo lo spumante Non si vede Sono le 11 in punto Perché c'è la nebbia? Perché c'è la nebbia? Anche perché devi letteralmente capire i suoni dove sono Perché Sento tipo una specie di scheletrino anche piccolino Tipo è il suono degli scheletri Però tipo più piccolino Hai un pappagallo? Si No Claude Ti prego Dimmi che non è il pappagallo Che fa questo rumore Ti prego No no ragazzi No E' il pappagallo Che fa lo zumbino? No No non è vero Dai ditemi che non è lo zumbino No c'è uno zumbino Dai No dai No dai Io ho distrutto casa Per trovare il cazzo di parassita di sto zombie Ed è il pappagallo Lascia che ti mostri il mio vero Ma non si picchiano veramente Ragazzi Meno male che sta laggando Sto picchiando una donna Io non volevo arrivare a questo Eh ma chi è quella donna Ma poi mi ha passato in mezzo così Ti stai abbientando? Chi è Sonia? Fatti capire Ti ho appena conosciuto e ti sto menando Appena picchiato una donna Entra Non posso Cos'è? Perché c'è una scopa? Ah perché è ghiacciata No Cosa? Perché c'è l'asse terrestre C'è l'asse terrestre È diritta Tu sei venuta qua Per farmi vedere Una scopa dritta Dicendomi che c'è l'asse terrestre Grazie Che non è in pendenza Ok Quindi non siamo in pendenza La terra è piatta Grazie La farò vedere in live Devo solo correre Ok Zitto te Muto scheletro Devi stare E niente Siamo qua a sto punto La mia assenza L'ha fatto inerire Si è carbonizzato Da dentro Caro è il momento Di tornare a casa Come sono state Queste giornate Qua rinchiuso E con quale cattiveria Ma se gli animali Poi mi scappano Ok Non ho nemmeno lo shift Per uscire Non ho nemmeno lo shift Per Tornare Sì ma poi rimane lì Testa di culo Guarda Sì Sì vabbè Vaffanculo Dai Non finisco la live Allora Che vi devo dire Vabbè me ne vado E che Vado a bussora qualcun altro Non lo so Dai basta Allora Si gioca A un 2 e 3 stella E mi stai facendo Perdere tempo Però La tua certificazione Giovanotto Ce l'hai Della tua certificazione Non warn Pronti Stronza E io What the fuck Se ne è andata Ha avuto il punto Interrogativo Perché non ha capito Sono entrati in casa Io ho starnutito in testa E mi sono andata Vabbè Salve signora Abbiamo preso il dildone Io mono No eh signora Di questi tempi Però si allontani Eh Di questi tempi Che già il garg Hai messo male Eh vabbè Signora Però Sì sì Si dico tutti così Signora Eh Un metro Dai Te Allora Per favore No no Si va a fare il tampone Signora Ce l'ha l'autocertificazione Quando vorrete fare colpo Sulla vostra crash Eh La dovete perriare Lei è lì per darvi un bacio E voi PUM Una musata così La butti a terra E No questo è brutto Lo dico Garga Garga Non devi ballare Non ci interessano i tuoi ballettica Va bene E E E E E E E E E Grazie per la visione!